Perché il pubblico dovrebbe ripescarti? Via! Allora, dovrebbe ripescarmi perché a 62 anni ballare su un fungo di 80 centimetri è un po' dura e far vedere che comunque le donne a 62 anni possono ancora farsi ballere e ballare Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al posto originale del video oppure condividilo Grazie